Noi fotografi si sa, siamo sempre in cerca di modi nuovi per migliorare le nostre fotografie e nel corso di questo video andrò a darvi dei consigli per migliorare appunto le vostre foto e lo faremo andando a esaminare le fotografie che qualcuno di voi mi ha inviato. Lo ripeto per l'ennesima volta, partecipare è semplicissimo, mi mandate un messaggio privato su Instagram con un link che non scade, quindi un link che io possa aprire anche fra un mese perché siete in tanti e quindi vado in ordine, nell'ordine in cui me le mandate, però se mi mandate un link che scade dopo tre giorni, dopo una settimana, sicuramente non farò in tempo. A quel punto io andrò a esaminare le foto e nel momento in cui sto facendo il vostro video ve lo comunico, vi rispondo solamente quando lo sto guardando, quindi non riceverete risposta fino a che non prendo in carico effettivamente il vostro materiale. Ho anche deciso di aprire un format nuovo, ovvero non commento le vostre foto ma postproduco una delle vostre foto, quindi potete scegliere se mandarmi una serie di immagini, una decina direi, non di più, se no questi video vengono infiniti, oppure potete decidere di mandarmi un file RAW o un NEF o un DNG o quello che volete, insomma un file grezzo che io possa postprodurre facendovi vedere io come lo farei. Potete mandarmi magari un JPEG di come l'avete postprodotto voi e il negativo digitale in maniera tale che si possa vedere la differenza tra quello che avevate fatto voi e quello che vado poi a fare io. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, faccio il fotografo di mestiere e quindi nel corso di questi brevi, si fa per dire, video, vado a darvi la mia impressione su come sono state realizzate alcune fotografie, andiamo a esaminarle insieme e io vi dico che cosa io avrei fatto in maniera diversa. Ovviamente non sono né un giudice di Masterchef né di X Factor, quindi il mio parere lascia un po' il tempo che trova, è più un gioco tra me e voi. Andiamo subito a tuffarci nel mio computer e andiamo a esaminare il portfolio di oggi. Benissimo, saltiamo subito qui dentro e mi sembra evidente che qui andremo a vedere delle fotografie di concerti e spettacoli. Dunque, la fotografia di eventi è una cosa che io ho praticato a lungo nella mia vita, soprattutto agli inizi, ed è, a mio parere, faccio questo preambolo, a mio parere è una trappola mortale per fotografi. In che senso? Nel senso che, ragazzi, dovete sapere una cosa, nella musica non ci sono più soldi. Non ci sono più soldi, cioè al di là di Lenny Kravitz e un altro paio di artisti che si fanno strapagare le stesse identiche date che facevano vent'anni fa e si fanno dare una barca assurda di soldi. Gente che ce l'ha fatta. Non c'è ricambio, quindi quelli che ce la fanno delle nuove generazioni sono sempre di meno. Io ho parlato con artisti anche mainstream, anche importanti, che mi hanno proprio detto, guarda, noi con il disco siamo sotto, con i concerti andiamo in pari, noi per portare a casa lo stipendio dobbiamo vendere le magliette durante i concerti, se non vendiamo le magliette siamo alla canna del gas. Questo per dirvi cosa? Non certo per sputare sulla già vituperata scena musicale italiana, ammesso che ancora ce ne sia una, quanto piuttosto per dirvi, secondo me fare fotografie di eventi e di concerti è una trappola letale per fotografi, perché nel 99% dei casi non ci pagheranno mai, perché non ci hanno i soldi. Quindi spesse volte ci danno l'accredito in cambio, ci fanno entrare gratis, magari ti regalano anche una maglietta, però vedere soldi in quell'ambito lì è molto difficile. E quindi è una trappola letale, perché uno magari vuole fare di questa passione la sua professione, ecco, coi concerti è difficilissimo che ci si riesca, lo dico per esperienza personale. Inoltre c'è anche un altro problema, ovvero fare fotografia di concerti significa andare a fotografare una scena che in qualche maniera è già allestita, con un musicista, un cantante, un frontman che in qualche maniera è anche un modello. Quindi stiamo fotografando una persona che nella maggior parte dei casi sa come mettersi per farsi fotografare al meglio, con una scena che è stata allestita per illuminarlo nel migliore dei modi. Perché vi dico che questa è una trappola? Perché fare delle belle foto ai concerti, riuscire a catturare delle belle immagini ai concerti è solo una questione di timing, è solo questione di timing ragazzi, io scatto in quel dato momento e una volta che ho capito come si muove l'artista, una volta che gli ho preso il respiro, faccio delle belle foto perché ho capito come si muove e questo mi porterà a credere di essere un fotografo eccezionale, quando la verità è che non è così. Perché ho fotografato una scena che non ho allestito io, con delle impostazioni che sono standard, perché una volta che abbiamo capito come performa la nostra strumentazione alle foto di eventi le useremo sempre nello stesso modo e stiamo fotografando una persona che sa come mettersi e la prima volta ve ne accorgete la prima volta che fate un'altra cosa che non sia un evento, la prima volta che andate in studio, lo dico perché ci sono passato, la prima volta che vado in studio mi rendo conto che non so usare le luci, non le so posizionare, non so usare i filtri, non so mettere in posa le persone, quindi per questo secondo me fare foto di concerti è una trappola perché ci convince di essere più bravi di quello che siamo, ci convince di essere a un punto diverso della nostra vita fotografica. Dopo questo lunghissimo preambolo andiamo a esaminare queste immagini. Questa foto, io non capisco chi è quest'artista, la foto in sé ci può anche stare, mi piace che ci sia questo, non capisco cosa sia, pulviscolo, insetti, non capisco che cosa sia, però mi piace anche, è una foto che trasmette una certa energia, purtroppo non si vede in faccia la persona, questo è un po' penalizzante, se fosse una raccolta di foto dello stesso concerto e ci fosse all'interno questa foto avrebbe molto valore perché sarebbe una foto di un bel momento energetico, però così senza vedere chi è il cantante questa foto presa da sola è un po' difficile, è un po' di difficile utilizzo secondo me, però i colori sono belli, è esposta bene, diciamo che ci sta. Andiamo avanti, questa qui secondo me funziona un po' di più, perdonatemi io non riconosco gli artisti, a meno che non ci sia proprio qualcuno che ho seguito da giovane ma non riconosco gli artisti in questione. Questa sicuramente è una foto che funziona a livello di composizione e di esposizione, sicuramente c'è anche del pathos che viene trasmesso, ecco diciamo che quest'espressione con queste luci messe giù in questo modo a me sembrano piuttosto horror, cioè è veramente una maschera trasfigurata, quindi mi rendo conto che magari nell'interpretazione c'era bisogno di questo pathos e ci sta benissimo e la foto in sé va bene. Diciamo che questa questa espressione con queste rughe mi trasmette comunque una sensazione non serenissima, quindi la foto va bene però la sensazione globale che mi arriva non è propriamente di serenità. Andiamo avanti, questa invece mi sembra un po' più tranquilla, l'esposizione va benissimo, la composizione pure va bene, ecco magari io avrei cercato di non segare la mano del chitarrista, credo, avrei cercato di non segargli la mano del chitarrista sulla destra e avrei preso magari un po' meno di console perché lì c'è un sacco di spazio vuoto che a mio parere non serve, io l'avrei gestita diversamente tirando tutto un po' più a destra, però globalmente funziona, è anche bello lo sfocato. Andiamo avanti, questa secondo me è molto carina, non riesco a capire che cos'è questa fascia di luce che attraversa l'immagine, però funziona moltissimo, è molto bella, senza quella fascia secondo me avrebbe perso tantissimo questa foto. Ovviamente non riconosco gli artisti, non capisco cosa diavolo stanno facendo, sembrano delle console quelle più che degli strumenti musicali, quindi ne deduco che non sia propriamente il mio genere, però l'immagine funziona, bello il contrasto tra il rosso e il blu, non riesco, come detto, non riesco a capire che artisti sono quindi faccio anche fatica a giudicare, però globalmente l'immagine funziona. Andiamo avanti e qui mi sembra di capire che era un set molto rosso, questa funziona, mi sembra anche abbastanza dritta, bella centrata, un po' simmetrica. Secondo me funziona, su questa non ho granché da dire, probabilmente l'avrei fatta uguale anch'io se fossi stato lì. Andiamo avanti, ecco ragazzi, questa io da un lato, da un lato apprezzo il gesto tecnico, perché fare una cosa di questo tipo vuol dire che abbiamo un minimo di conoscenza, quindi ci sta, però in un ambito di questo tipo io non so che artisti erano, se erano artisti anni settanta con velleità psichedeliche ci sta. Diciamo che tendenzialmente io cose di questo tipo a un concerto non le faccio più, perché ho visto nel corso degli anni che i committenti, cioè probabilmente i musicisti stessi, non le usano poi, spesso e volentieri non le usano cose di questo tipo, perché i musicisti sono vanitosi, quello che vogliono è che vogliono vedersi bene, vogliono essere lì e avere una foto in cui stanno suonando dal vivo, ma vogliono che sembri una foto posata quasi, quindi una foto finta e quindi una cosa del genere non so quanto la potrebbero apprezzare. Andiamo avanti, qui siamo sul bianco e nero, qui io vedo qualcosa di strano, nel senso che a differenza di quelle di prima che mi sembravano scattate con un teleobiettivo da lontano, questa a me sembra scattata con un grand'angolo da vicino. Mi domando perché, perché secondo me anche questa sarebbe venuta a me, cioè mi rendo conto della volontà magari di far vedere che si è dentro nella scena andando più vicino con un grand'angolo e ci sta anche, però questo soffitto dietro non capisco se aggiunge o se toglie questo tendone dietro, io poi ho suonato tanti anni quindi conosco il retroscena dei palchi, avrei preferito avere più isolato il soggetto, a meno che poi ovviamente non ci sia un motivo, che può anche essere, magari era un posto piccolo, era l'unica cosa che si poteva fare, quindi va anche bene così, però vedo molto lo stacco tra questa e le immagini precedenti. Andiamo avanti, dettaglio della batteria, ci sta anche ragazzi, si fanno queste cose durante i concerti, esistono questo tipo di immagini e sicuramente il batterista sarà contento soprattutto se è endorser del rullante o dei piatti o della pelle che sta venendo usata. Diciamo che è una foto che ci stava bene, io non la metterei tra le mie migliori perché obiettivamente è proprio una foto di un rullante, quindi ci stava bene la si dà ai musicisti di quella sera però io non la metterei a portfolio tra le mie migliori ecco. Andiamo avanti e qui a me questa sembra quasi una sala prove più che una sala concerti, sia per l'illuminazione sia per... no però non è vero perché dietro ci sono dei tavoli, quindi era una festa della birra qualcosa del genere e piove che Dio la manda dietro. Diciamo che questa foto secondo me ha valore per il fatto che dietro sta piovendo perché non mi sembra una bella foto, non è una foto wow, non è una foto che dici ah cavolo, cioè il soggetto è quello che è, non sta facendo niente di particolare, non ha una posa particolare, un'espressione particolare, sta suonando da quello che posso vedere, potrebbe essere un passaggio anche solistico però non vedo particolare trasporto in questa foto, magari c'era ma in questa foto io non lo vedo, mi sembra lì tranquillo che si fa il suo arpeggino. Secondo me acquisisce valore proprio per il fatto che dietro sta piovendo, altrimenti sarebbe una foto che io avrei tolto da un portfolio, l'avrei tolta tranquillamente. Questa invece mi sembra molto meglio, qui direi a giudicare dalla parete che siamo in interni e qui abbiamo una band di signori attempati che stanno suonando probabilmente qualcosa di antico, io questi li vedrei bene a suonare qualcosa degli area piuttosto che dei dei deep purple o robe del genere e qui ci vedo un po' di pathos nell'interpretazione del nostro cantante tastierista e questa è una foto che mi piace molto di più, a me personalmente mi trasmette di più, secondo me questa funziona molto meglio della precedente. Mi domando la scelta del bianco e nero se sia contestualizzata sulla band o se sia casuale perché un'altra delle cose che a me fanno impazzire delle foto di concerti e ve lo dico perché le ho fatte anch'io, foto di concerti, ci sono le luci colorate che sparano da morire, quando una foto viene male cosa fai? La sbatti in bianco e nero. L'ho fatto anch'io ragazzi, l'ho fatto per mille anni perché è l'unica cosa da fare spesso e volentieri. Quando hai una gamma, una colorimetria rovinata perché c'erano dei neon, delle luci troppo forti, degli spotlight viola piuttosto che dici va bene è tutto rovinato, sembra una schifezza, è una ciofecata così, allora la sbatto in bianco e nero. Io mi domando sempre se il bianco e nero abbia un motivo oppure se sia per rimediare alle luci che non erano belle. Lo dico questo semplicemente perché se c'era un motivo la foto per me assume un valore diverso. Se è un bianco e nero riparatore, sì va bene, era l'unica cosa da fare, ci sta, ma io preferirei che mi diceste, poi magari ne parliamo nei commenti, preferirei che mi diceste le ho messe in bianco e nero per un motivo. Andavano bene lo stesso anche a colori e le ho messe in bianco e nero perché c'era una motivazione forte, volevo far vedere che era una roba vecchia per esempio, preferirei sentirmi dire una roba del genere. Passiamo però a un'altra sezione di questo portfolio perché dovete sapere che questo è un portfolio diviso in due, quindi se ho capito bene ci sono spettacoli e si parlava di mostre, a me qui sembra anche teatro, non riesco a capire se è mostre o teatro, propenderai per teatro visti i soggetti. Allora questa sezione devo dire mi è piaciuta parecchio perché qui è tutto bianco e nero e partiamo da questa prima immagine che vedete che mi evoca già qualcosa, io non capisco un tubo di cosa sta succedendo, non ne ho la minima idea, però queste luci che possono sembrare brutte secondo me c'è una cura dietro invece, cioè è chiaramente intenzionale e quindi questa foto ti sta già raccontando qualcosa. Se noi andiamo avanti ci troviamo con un'immagine fortemente contrastata, con un'espressività, con una valenza e questo sfondo nero e questa illuminazione gestita in questo modo mi fa comunque vedere che c'è una cura, è una scena allestita, gestita in qualche maniera, non è sbattuta lì di nuovo. Se siamo in ambito mostre o spettacoli il discorso purtroppo è sempre quello, ci troviamo un'illuminazione gestita da qualcun altro con un attore che ci sta già regalando la sua performance migliore, quindi questo voglio dire quando vi dico che è una trappola, noi ci convinciamo di aver fatto un lavoro eccezionale ma in realtà il lavoro l'ha fatto qualcun altro, l'hanno fatto chi ha allestito, chi ha gestito l'illuminotecnica e l'attore. Noi abbiamo fatto ben poco, per questo dico che è una trappola. L'immagine in questo caso funziona, c'è una granulosità molto evidente che segno che probabilmente stavamo scattando a ISO altissimi, cosa che spesso a teatro succede perché l'illuminazione è volutamente fioca. Andiamo avanti e vediamo un nuovo scatto sempre con un rumore importante che però ci sta benissimo ragazzi, anzi ci sta bene. Io non mi aspetto foto pulite in un ambito come questo, io voglio vedere quel rumore, voglio vederla sporca in questo caso e direi che in questo caso funziona anche se a me personalmente non piace la sovrapposizione tra il nostro soggetto principale e quelle due figure, avrei preferito vederli un po' spostati. Mi rendo conto che probabilmente non si poteva, nella foga del momento era una scena così ed è venuta così e quindi va bene, assume un valore anche per questo. Andiamo avanti, vedete in questo caso come è gestita diversamente la luce, la differenza di illuminazione tra la prima foto di questo profilo che abbiamo visto e questa, quindi tra quella con la signora sulla sedia e questa, c'è una differenza di illuminazione tale che non possiamo far finta che la luce non sia gestita, la luce è gestita e ci troviamo già una scena illuminata da professionisti presumibilmente, quindi le scelte di illuminotecnica qui sono già state fatte e ci avvantaggia tantissimo questo nel nostro lavoro. Noi qui scattiamo e la scena è già pronta e c'è un attore che sta recitando e quindi è già tutto pronto e tutto allestito e questa immagine secondo me funziona. Andiamo avanti, stesso set, il nostro attore si è spostato dietro al tavolo, stesso discorso, l'immagine funziona, è un bel momento, l'unica skill che possiamo mettere in campo quando fotografiamo uno spettacolo teatrale o un'opera di questo tipo, l'unica skill che possiamo mettere in campo è il timing, proprio l'unica cosa dove possiamo far vedere che il nostro lavoro è stato fatto bene come fotografi è scegliere il timing giusto e la composizione giusta, in questo caso chiaramente è stato fatto bene perché questo è un bel momento dove il nostro attore sta brindando, guardando il pubblico e la foto funziona. Andiamo avanti, altro bel momento, di nuovo lavoriamo di timing, di nuovo illuminazione chiaramente gestita, quindi si vede la sua espressività, la sua performance, ovviamente essendo un'attrice illuminata abbiamo gioco facile nel fare la nostra fotografia perché qui dobbiamo solo beccare il timing. La foto funziona, chiaramente la luce è bella perché ci sono dei professionisti di luminotecnica che hanno allestito questo set. Andiamo avanti, stesso discorso anche se qui vedo delle differenze perché qui invece si vede lo sfondo, forse abbiamo cambiato posizione e questo sfondo che non è velluto che assorbe la luce ma sembra un telone traslucido riflette. In questo caso vi dirò la foto in sé secondo me è bella. Come effetto globale preferivo quando lo sfondo era completamente nero perché c'era più attenzione sul soggetto e nel bianco e nero come ben sapete più contrasto c'è tra quello che dobbiamo guardare e quello che fa parte dello sfondo e meglio è. In questo caso secondo me lo sfondo toglie un po'. Ecco proprio quello che vi dicevo, torniamo da questa angolazione, qui secondo me funziona molto di più, la preferisco da questa angolazione, preferisco anche la foto in generale come espressione, come posa, secondo me funziona meglio. Comunque il bianco e nero vedete come spacca perché comunque abbiamo uno stacco nettissimo tra il soggetto che è quasi bianco e lo sfondo che è completamente nero. Andiamo avanti e qui forse abbiamo mescolato le due cose perché qui torniamo su un bianco e nero con un bassista che sta suonando in un posto che sembra quello di prima perché c'è quel muro con i mattoni. Mi domando come mai questa sovrapposizione, questa è una cosa a cui fare caso secondo me perché se abbiamo messo la musica di là io la terrei di là, terrei separate queste due branche dello spettacolo. Andiamo avanti e qui mi sembra evidente che ci sono delle foto ricorsive, questa l'abbiamo già vista, io in un portfolio non ripeterei le foto, questo proprio a livello generale, non le metterei in due sezioni diverse. Andiamo avanti e questa faccio fatica a spiegarmela perché questo è chiaramente un signore in esterna con il sole. La foto è bella, lui è molto espressivo, il bianco e nero funziona benissimo, in questo caso questa retroilluminazione funziona, mi piace anche parecchio, però mi domando cosa ci faccia qui questa foto, non posso fare a meno di domandarmelo. E questa era l'ultima foto del nostro portfolio, sono molto contento che ci fosse perché forse era proprio la mia preferita, quella del signore anziano, però in qualche maniera la trovo un po' fuori posto, magari ha senso, magari dovrei andare a ingrandire e leggermi quel ritaglio di giornale che ha in mano, magari ha qualche significato, ne parliamo poi dopo nei commenti se l'autore avrà voglia di illuminarci su questo tema. Cosa dire su questo portfolio ragazzi, ne ho già parlato anche troppo, sostanzialmente la mia opinione è che le foto vadano bene, vanno tutte bene, tranne un paio di quelle che ho detto che forse avrei eliminato, quelle forse effettivamente le avrei eliminate, quella della batteria si la consegna alla band, però poi a portfolio non la metterei una foto del genere. Per quanto riguarda le immagini, è chiaro che le foto vanno tutte bene, nel senso che il timing è azzeccato, purtroppo il timing e la composizione sono le uniche cose che si possono valutare in un portfolio di questo tipo perché appunto la scena era già allestita al meglio da altri che fanno quello di mestiere, quindi io non posso dare un voto all'illuminotecnica di queste foto perché non è stata fatta da chi ha effettivamente scattato, o poi invece magari mi sbaglio io e il nostro fotografo ha gestito entrambi i processi, in quel caso mi scuso in anticipo, però faccio fatica a dare una valutazione complessiva perché sono foto appunto di uno spettacolo ben localizzato nel tempo e nello spazio, in quel senso vanno bene. Bisognerebbe, sarei curioso di indagare e se ne parlava nel messaggio che mi era arrivato di andare magari anche a vedere su Instagram, cosa che però mi riserverò di fare in un altro video magari se l'autore vorrà continuare a collaborare alla realizzazione di questi contenuti, quindi magari ne riparleremo. Per il momento io vi dico soltanto che questo portfolio secondo me va bene, funziona, ci sono un paio di cose che io avrei tolto. Diciamo che globalmente mi piacerebbe vedere qualcosa di diverso da concerti e spettacoli, mi piacerebbe vedere qualcosa di diverso per vedere se ci sono lati tecnici che vengono fuori in maniera diversa in altri ambiti, perché qui appunto è difficile giudicarli. Amici a questo punto fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, fatemi sapere qui sotto in un commento se avete una foto preferita, qualcosa che vi è piaciuto particolarmente nell'esposizione di questo portfolio, fatemi anche sapere se avreste gestito qualcosa in maniera differente. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, riguardate l'inizio del video se volete sapere come si fa a partecipare a questo format, basta mandarmi le foto con un link che non scade e mi mandate un messaggio privato su Instagram. Detto questo io come sempre vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!